Buonasera amici di Domi Digital ben arrivati in questo video in cui questa sera vi parlerò della mia seconda squadra la Ginga che io ho soprannominato come squadra Farma MFL in questo video vediamo come l'ho gestita, come è andato il campionato appena terminato e come praticamente si può migliorare e come ho pensato di strutturare questa squadra per la prossima stagione tutto questo in questo video dopo la sigla eccoci qui ragazzi all'interno della schermata la gestione della mia squadra Ginga MFC allora vi ricordo per chi non gioca MFL che potete registrarvi con il link qui sotto in descrizione con il quale dopo l'acquisto di 3 starter pack avrete un giocatore praticamente gratuito che potete utilizzare per le vostre squadre un giocatore gratuito voi e un giocatore gratuito arriverà a me bene non mi perdo in altre chiacchiere voglio andare a vedere che cosa è successo con Ginga come sapete come vi ho detto negli altri video Ginga è una squadra praticamente Farma MFL quindi praticamente tutti i giocatori top li ho messi nella squadra principale Interdigital tutti i giocatori praticamente di scatto li ho messi in Ginga questo che cosa mi ha permesso? mi ha sicuramente dato una squadra non all'altezza per competere nei primi posti però mi ha permesso di sfruttare al massimo i miei giocatori in modo da dare meno possibili in percentuali e da ottenere più MFL possibili quindi ogni posizione dall'ultima in su era positiva in questo campionato mi classifico nono ho dato filo dall'orcide a tante squadre mi classifico nono e addirittura arrivo ai quarti di finale di Coppa qua in Coppa ho fatto riusciare qualcuno perché sono riuscito a battere qualcuno molto più forte di me ma io qui senza grandissimi pretese io sono andato giù con un modulo molto molto semplice tranne l'ultimo che ho fatto qualche prova con un bel 5-3-2 super difensivo quindi gli unici che ho preso in prestito sono gli Asa e praticamente i terzini avanzati destro e i terzini avanzati sinistri il titolare con la sua riserva questi sono quelli che io ho preso dal prestito tutto il resto praticamente è farina del mio sacco quindi giocatori che arrivano di cui io sono l'agente e quindi non mi sono costati praticamente nulla in termini di MFL nella prossima stagione sicuramente questa squadra diventerà ancora più forte perché praticamente ho nuovi giocatori in Inter Digital forti da poter schierare e quindi quelli che non metterò in Inter Digital passeranno qui e di conseguenza più si va avanti e più la forza di questa squadra aumenterà e si potrà puntare sempre più in alto ma l'obiettivo anche per le prossime stagioni sarà quello di lasciarla come squadra Farma MFL quindi una squadra dalle basse pretese che gioca praticamente un gioco difensivo soprattutto se viene posizionata in un campionato come questo qui in cui erano quasi tutti superiore a me nella classifica dove c'erano le medie io ero praticamente l'undicesima squadra a livello di forza quindi sapevo che qualunque posizione ottenuta migliore dall'undicesima in poi sarebbe stato un successo e lo è stato e le ultime partite ho subito qualche sconfitta di troppo magari perché ho affrontato qualcuno troppo forte ma questo modulo mi ha permesso anche di vincere o pareggiare tante partite infatti penso di aver pareggiato sì, vinte quattro partite pareggiate nove e perse nove alcune per assurdo anche dominando nonostante il gioco molto difensivo che ho adottato quindi sostanzialmente lo scopo di questa squadra rimarrà lo stesso anche l'anno prossimo soltanto si spera di riuscire a portare questa squadra un gradino più su e pian piano arrivare al momento in cui apriranno le classifiche dove si potranno fare promozioni e retrocessioni in quel caso magari cambiare strategia e cercare di rimanere nella metà classifica o addirittura tentare una promozione ma questo è un problema che ci porremo quando finirà il periodo alfa del gioco entreremo nel vivo quindi a quel punto in poi si comincerà a fare quel tipo di ragionamento ma per il momento anche per la prossima stagione la strategia sarà sempre la stessa bene ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo video ditemi che cosa ne pensate di questa idea della squadra farm MFL se la trovate un'idea che può funzionare o non può funzionare dato che ne parlo da un po' se qualcuno di voi ha testato questo tipo di sistema e se lo ha provato se ha avuto i suoi frutti o se effettivamente magari non ne vale la pena scrivetemelo qui sotto nei commenti ricordatevi di lasciare un like se vi è piaciuto un video e di iscrivervi al mio canale per non perderevi altri contenuti come questo e venitemi a trovare anche sul canale Telegram dove c'è scritto Sorairi P chioccio Sorairi P su Telegram ma non parliamo solo di Sorairi si parla di Sorairi si parla di MFL si parla di Scorash e di tanti giochi digitali c'è un topic non c'è confusione quindi ci sarà un topic c'è un topic dedicato a MFL in cui trovate tutti gli appassionati italiani della nostra community che giocano MFL con cui confrontarvi fare amichevoli fare scambi passatevi giocatori trovare acquirenti e trovare venditori di tutto di tutto e di più grazie mille a tutti per aver seguito questo video buona serata da Domi Digital Grazie mille a tutti 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 Grazie a tutti.